Che cosa pensa David Copperfield quando guarda il pubblico prima di uno spettacolo? È un pubblico di merda. Il mago ha 24 anni quando prende parte al film horror Terror Train. La trama è semplice, un assassino colpisce su un treno durante una festa in maschera organizzata alla fine del liceo. Per l'intrattenimento a bordo viene ingaggiato il mago Ken, un David Copperfield che insieme al capotreno sembra l'unico passeggero non ubriaco. L'intero racconto si basa su un meccanismo illusionistico. Dove c'è carnevale, realtà e maschera si confondono e per un assassino che sappia approfittarne è facile colpire. Quando Ed barcolla trafitto da una spada, l'amico commenta Peccato che il sangue è vero e lo studente vestito da Groucho Marx muore ancora prima di partire. Anche le gag più innocenti hanno risvolto i macabri. Chi ha visto l'episodio 292 ricorderà il dito mozzato di Halloween. Le va uno spinello? Sì, mi piacerebbe proprio. Prego, si serva pure. Che roba è? Grazie. Dai, grazie lo stesso. Quando a bordo Groucho ripropone la gag, Michi crede sia un trucco e si sbaglia. Che cos'è? Ah, lo so che è un trucco. Lo trovo di pessimo gusto. Quello è davvero un dito reciso. Non sa che Ed è stato ucciso e c'è l'assassino sotto la maschera di Groucho. Scambiare la realtà per un trucco la rende una facile preda del mostro. La sfida coinvolge anche noi che vediamo il film. Questo per esempio è davvero un gioco di prestigio? Vorrei farvi vedere un giochetto. Sì. Ok. Voi pensate una carta, ma non me la dite però. A cosa hai pensato? Cercate di concentrare l'attenzione sul mazzo. Ok. Perché è il potere del pensiero che fa salire la carta in cima al mazzo. Allora attenzione, eh. A quale carta ha pensato? Al jack di cuori. Non solo è salito in cima al mazzo, ma si è anche trasformato nel jack di picche. Carino il giochetto. L'altro elemento mimetico è il suono. Nessuno si accorge delle urla di chi muore, perché indistinguibili dal fischio del treno. Non si sente un grido di terrore quando tutto è un grido di terrore. Isolandone le scene, i numeri di David Copperfield sono un'oasi di bellezza, in un film scollacciato e pieno di doppi sensi a sfondo sessuale. Parte della misdirection sta proprio in quel contrasto. Per colpire a bordo di un treno un assassino ha bisogno di lucidità e freddezza, le stesse doti che consentono di esibirsi davanti a un pubblico di ubriachi. Il mago Ken si aggira per le carrozze accompagnato da suoni sinistri, e Jamie Lee Curtis è tra le prime a sospettare di lui. D'altronde, l'uomo sa come usare le lame, le manipola per trovare le carte e trafiggere la sua assistente. Ovvio che sia tra i primi sospettati. La conferma arriva da un vecchio annuario scolastico. Il mago è Kenny Hampson, il vecchio compagno nerd che si sta vendicando per il bullismo subito tre anni prima. Durante uno scherzo crudele lo avevano convinto che Alina avesse una cotta per lui, ma nel letto gli avevano fatto trovare il cadavere di una donna. Fino a che, colpo di scena, anche il mago Ken viene ucciso. Chi è dunque l'assassino? O si tratta forse di un'assassina? A questo fa pensare il make-up sulle unghie del killer, che uccide il bullo numero uno della classe. Nella magia si può infierire sull'assistente donna in tanti modi. Il film lo fa in tre modi diversi, uno più infame dell'altro. Prima facendone una spietata assassina, in modo da giustificare qualunque punizione e se vizia. Secondo, raccontandola come un inganno vivente, perché in realtà si tratta di un uomo travestito. Non un uomo qualunque, ma Kenny impazzito per gli episodi di bullismo. Terror Train promuove la stessa transfobia di J.K. Rowling, che ancora oggi associa le persone trans agli omicidi, reiterando l'idea che avere un'identità di genere diverso dal sesso biologico sia una malattia. Nel cinema è un vizio antico. Quattro anni prima, l'assassino della casa delle finestre che ridono è un prete donna, la cui voce suona incongrua con l'aspetto maschile. Devo fare tutto da sola. Come la mamma di Harry Potter e come pupi avati, Terror Train ci invita ad avere paura di chi possiede un pene, ma presenta tratti femminili, dimostrando una misoginia ancora più sottile e spietata, capace di colpire anche noi uomini. Ed è il terzo colpo infame della pellicola. All'inizio del film, il futuro mostro indossa il cappello perché è ancora vergine. Il copricapo contraddistingue i maschi illibrati da chi ha già avuto incontri intimi. Raccontando la verginità maschile come un marchio di infamia e qualcosa da temere, il film reitera l'idea che il sesso sia un cartellino da timbrare. Il più in fretta possibile è fuori da una prospettiva relazionale di consenso. Chi non lo fa, dice il film, è un essere spaventoso. Se questo modo di essere maschio fa schifo anche a te, la volontà di cambiare di Belux offre un antidoto potente. La buona notizia è che il film fa schifo anche a David Copperfield. Intervistato dall'Asvegas Sun, il mago ha dichiarato Il motivo per cui faccio così tanti spettacoli, la gente pensa che io sia pazzo, è che in ogni città in cui vado, noleggio in videoteca Terror Train e non lo restituisco. Ho calcolato che se continuerò a farlo per altri vent'anni, avrò visitato abbastanza luoghi da cancellare il ricordo di Terror Train e della mia performance. Ah, se solo fosse così semplice far sparire anche la transfobia. Grazie a tutti.